Questa mattina poco prima dell'alba la città di Forlì è stata colpita da un breve ma intenso nubifragio colpendo le stesse aree già danneggiate dall'alluvione di maggio. Verso le 5.30 la pioggia è iniziata a cadere con grande intensità accompagnata da forti raffiche di vento depositando oltre 45 mm di acqua in pochi minuti mettendo a dura prova il sistema fognario. Ciò ha portato a numerosi allagamenti richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco per evacuare scantinati garage e piani terra allagati così come per alcuni sottopassi stradali. Il nubifragio è durato circa 20 minuti causando notevoli disagi e ripristinando la paura tra i residenti. Lunedì il presidente Sergio Mattarella e il ministro Valditara visiteranno la città per inaugurare l'anno scolastico in segno di solidarietà verso gli studenti e le loro famiglie colpite dall'alluvione.